Sì, è sicuramente un'opportunità importante, spero di sfruttarla al meglio, darò il massimo per questa squadra e sono contento di essere qui. Senti, vieni da una stagione che comunque si è fatto conoscere al grande calcio, hai debuttato in campionato, in Champions League, che emozioni sono state quelle? Sono state belle emozioni, indescrivibili, comunque per un ragazzo di 18 anni che non si aspettava neanche di fare così tante cose, comunque quello è il passato e pensiamo al futuro che è il Pescara. Quanto è stato importante Eusebio Di Francesco? Anzi, se ci riveli anche quell'aneddoto di Pinzolo? No, non c'è da rivelare niente, non è successo niente, mi sono trovato subito bene con il mister, mi ha dato un'opportunità grande e penso di averla sfruttata al meglio. Di Pescara ti ha detto qualcosa? Sì, mi ha detto, ma sono cose che comunque rimangono fra noi, mi ha detto comunque che quasi stava bene di venire qui e io ho preso con calma la mia decisione. Senti, quali sono le tue caratteristiche principali e poi se sei particolarmente emozionato perché questa è la prima stagione lontano da Roma e nel mondo dei grandi a tutti gli effetti? No, non sono emozionato comunque perché è un percorso che ogni calciatore fa alla fine. Io ho 19 anni, era giusto fare una nuova esperienza, per il resto penso che mi conoscete. Sono un esterno attacco, veloce, mi piace punta all'uomo e sapete già tutto penso, quindi non c'è bisogno che mi metta qui a dire le altre cose. Senti, una curiosità, abbiamo detto da qualche parte che hai anche lanciato una linea di abbigliamento, hashtag 48, è vero? No, non è il momento di parlare di queste cose, comunque sono cose che non riguardano il calcio e quindi non sto qui a parlare di queste cose. Senti, ma la tua trattativa è stata un po' travagliata o ci sbagliamo? No, non c'è stato niente di travagliata secondo me. Era giusto che prendevo le mie decisioni insieme al mio procuratore, insieme alla società e siamo arrivati a una decisione insieme. Io, come ho detto prima, sono contento di stare qui. C'è qualche compagno che ti ha colpito? Sì, penso a Brugman, ma lo sapete già tutti che cos'è qui a pescare e che giocatore è, però, come ho detto prima, è un grandissimo gruppo e mi sono trovato subito benissimo.